Fabio Cuccarese, la nuova ala della Becchieri Piacenza, classe 96, alla prima avventura qui in Maglia Becchieri. Come stanno andando queste prime settimane di preparazione? Bene, ora questo sabato giochiamo, quindi durante queste settimane il nostro staff ha cercato di prepararci al meglio per la prima partita e per questo campionato che sarà molto difficile con squadre molto competenti, quindi saremo pronti per sabato. Una Piacenza che è completamente rinnovata rispetto all'anno scorso, a che punto possiamo dire essere arrivato lo spogliatoio? Beh, ci sono tutte persone che comunque durante la loro carriera hanno visto spogliatoi della serie A importanti, nazionale, come Teo, come Gigi, quindi diciamo hanno esperienza oltre che nel campo anche nel formare lo spogliatoio che è molto più importante secondo me della capacità che si ha di conoscersi in campo. Dicevamo sabato l'esordio in casa, quanto può cambiare l'esordio casalingo piuttosto che giocare subito di fronte al pubblico avversario? Beh, secondo me è un'arma in più perché giocare subito la prima in casa con comunque tanti tifosi, è ovvio da quella carica in più che la prima giornata può essere fondamentale per trovare il ritmo giusto per vincere. Quindi spero veramente che vengano in tanti a vedere questa prima partita e spero di vincerla. Avversario sarà Monsummano, avete già analizzato con il coach, con i compagni la partita? No, inizieremo comunque ad analizzare la squadra di Monsummano che è molto forte verso giovedì, venerdì per arrivare più pronti possibile a sabato. E quindi sabato l'esordio casalingo della Becquery Piacenza, Palla Becquery ore 21, Monsummano Terme l'avversario, vi aspettiamo alla Palla Becquery.